Sento ma non ascoltavo, dicevo non sento Sta tipo a parlare solo col suo accento Pure il traduttore mi dice E se non rispondi e se no ti uomo Io non rispondo delle mie azioni Mi mandi all'inferno troppi peccatori Io mi metto in coda Levo rebustino insieme una di queste serie Fare un paio di scene, cosa viene e viene Ma ho fatto le scene, quindi cazzo bene Sono un capocannoniere, io non esco con gente per bene Sono con gente per bene Cerco lavoro, ho fatto l'artistico Bene ma non benissimo Dice se è un gesto ma simpaticissimo Bene ma non benissimo Sul tuo profilo scrivevo il grandissimo Bene ma non benissimo Dico bene ma Se mi chiedi come va Va bene, 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 bene Ma non benissimo Bene, 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 bene Ma non benissimo Dice che parte per un viaggio mistico Poi si fa tutto il villaggio turistico Dico bene ma Se mi chiedi come va Va bene, 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 bene Ma non benissimo